I bambini cosa fanno di estate? Gli adolescenti? Z 차�ano, ma che dovevi e imposti il bambini cosa fanno. Niente so. Mamma. Mamma. erzähl Non ho mai. I bambini quando stanno sul wayboard E gli adolescenti con il wayboard I bambini cosa fanno col fidget spinner? E gli adolescenti con lo 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 那ola máte? E gli adolescenti con lohair? E gli adolescenti con lo spinner? un'altra cosa faccio perché c'è un'altra cosa lo so è un'altra cosa e poi ci sono e il talismo è un'altra cosa non è quello è un'altra cosa e l'altra cosa non è un'altra cosa che non è un'altra cosa E gli adolescenti come fanno i compiti? Cosa c'è? Cos'è per un bambino l'estate? L'estate per me è... E' un bambino l'estate! E' un bambino l'estate! E cos'è per gli adolescenti andare al mare? L'estate è quattro mesi... Aspetto... No! Devo fare qualcosa... In questi tre mesi... Tre mesi... Allora, ok... L'estate è quattro mesi in cui i ragazzi di terza possono divertirsi... Non lo sapete perché? Perchè ragazzi di terza! E' perchè a giugno e a luglio... Devo fare gli esami! Ma una domanda di cui non mi gioia! Gli esami! Ma lo sapete cosa farò io tutto il tempo? Un minuto... Perchè sapete... Questa è estate! E' un bambino l'estate è un modo per divertirsi... E voi dite che i professori danno i compiti... Ma secondo me... I compiti sono importanti per andare in altra scuola... Tipo... Io ho finito la quinta elementare... E andrò alle medie... E ci hanno dato dei libri e dei libri da leggere... Quindi ragazzi... Il professore non fanno anche... Perchè io voglio dare i compiti... Ma perchè... Vi vogliono fare... Arrivare già preparati... Su qualcosa... E se fanno loro... Cose che dovete imparare l'anno prossimo... E per essere già preparati... Per... Per scrivere... Qualcosa su di loro... Così almeno saprete... Quindi ragazzi... Questo... Era il video... E guardate... Scusate la gente che il video vi sia piaciuto... Se il video vi è piaciuto... Lasciate un commentare... Iscrivetevi... Noi ci vediamo... Scusate... Ciao... Ciao... Ciao...